Siamo a tre giorni dall'inizio della fiera di San Nicola dopo lo stop di un anno forzato dalla pandemia. In linea con le normative nazionali l'accesso alla fiera sarà consentito solo con il Green Pass che sarà verificato dalle autorità all'ingresso con un controllo campionario. Dovranno essere in possesso del certificato verde solamente i fruitori e oggi siamo andati a sentire alcuni pareri al mercato di San Decenzio proprio in merito alla decisione presa per la fiera di San Nicola. Preoccupati invece gli ambulanti per la possibile scarsa partecipazione date le restrizioni. Per la sicurezza di tutti penso che sia una cosa giusta anche perché lo prevede un decreto nazionale, una legge nazionale dove appunto i fruitori hanno l'obbligo del Green Pass. Per la sicurezza di tutti è giusto. È anche vero che le persone che vogliono andare in spiaggia, che vogliono andarsi a prendere un gelato, che vogliono andare al ristorante, vogliono andare a trovare un amico all'interno del perimetro della fiera non hanno l'obbligo di mostrare il Green Pass, quindi possono anche non avere il Green Pass. Cosa ne pensa dell'obbligo del Green Pass per poter accedere alla fiera di San Nicola per i fruitori? Allora io sono d'accordo sicuramente perché ci sarà moltissima gente, già si è pensato. Io sono vaccinata e ritengo che vaccinarsi non è un obbligo ma è una cosa molto importante perché noi dobbiamo pensare che in ogni famiglia c'è comunque qualcuno di fragile che anche col vaccino non è totalmente protetto. Per cui se non vogliamo farlo per noi cerchiamo di avere un po' di buonsenso e cerchiamo di pensare anche a chi è in famiglia che non può farlo, a chi corre dei rischi, alle persone che sono vicine a noi se non vogliamo pensare agli estranei. Secondo me, io sono d'accordo, l'ho fatto. Io sono favorevole, io sono favorevole al Green Pass, sono favorevole alla vaccinazione perché sono morti tante persone che non erano vaccinate. Il mio babbo è morto, non era vaccinato, capito? E allora io sarei favorevole al Green Pass sia per chi fruisce dalla fiera sia per gli ambulanti. E così. Davide è la cosa giusta. Non so perché gli altri protestano ma io penso che se gli passa vicino la morte, lo pensano anche loro, che sia opportuno vaccinarsi. Mi sembra una grossa stupidaggine. Una stupidaggine che tra l'altro non ha nessuna possibilità di essere controllata in maniera adeguata perché se la fiera viene fatta come solitamente per tutta l'estensione di Viale Trieste ovviamente non puoi fare un controllo agli accessi perché sono troppo numerosi e il controllare così a campione mi sembra impossibile almeno di non impegnare un numero di agenti o di poliziotti, non so chi, per poterlo fare. Secondo me sarebbe stato molto più logico fare come viene fatto qui nei mercati, nel mercato normale, imporre l'obbligo della mascherina, imporre che ci siano le bancarelle adeguatamente distanziate per evitare degli eccessivi assembramenti e mi sembrava una cosa molto più logica, molto più fattibile e razionale. Grazie